Le nuove sfide alla rappresentanza, all'associazionismo economico, al servizio del rilancio, dell'economia. E' il tema di un incontro svoltosi in occasione della 61esima giornata dell'artigianato presso il padiglione 10 della Fiera de Levante a Bari. Promosso dall'assessorato allo sviluppo economico della Regione Puglia, tende a suggerire le strategie a sostegno delle piccole e medie imprese pugliesi che hanno voglia di innovare il loro settore. E' della voglia di innovare, di artigiani, imprenditori commerciali e operatori della ricerca e dell'innovazione che c'è in Puglia. Una voglia di innovare che la Regione sostiene in tutti i modi, a partire dall'accesso al credito. Abbiamo sostenuto i cofidi perché dessero le garanzie, poi questo non è bastato, abbiamo inventato il trenched cover. Poi questo non è bastato, oggi stiamo lavorando per incrementare la possibilità che le banche aiutino le imprese, è uno sforzo difficilissimo. I commercianti oggi si aprono all'era digitale, la fabbrica intelligente. La fabbrica intelligente non è spocchia, è l'idea che ci possa essere una fabbrica che rispetta l'ambiente, una manifattura sostenibile, ma al contempo una manifattura fondamentale. Il mondo non può essere solo di servizi, se non c'è manifattura il sistema crolla. Su questo noi lavoriamo per tenere unito il nostro sistema economico, che è fatto di piccole imprese artigiane, di piccole commercianti, che non perché piccole devono uscire dal sistema, devono magari crescere aggregandosi, devono migliorare la loro propensione all'export, ma non lo possono fare da sola. La Regione le aiuta attraverso tutta una politica industriale di sostegno al territorio. In un territorio come quello pugliese, caratterizzato dai settori dell'artigianato e delle piccole imprese, è fondamentale così investire e sfruttare al meglio i fondi europei, per garantire un incremento della produttività. Artigianato, imprenditoria e credito sono stati invece i temi che hanno caratterizzato un altro importante appuntamento dedicato alla fabbriche intelligenti, Roadshow Cluster Fabrica Intelligente. Qui è stata spiegata l'importanza dell'innovazione per la Puglia al fine di migliorare il proprio settore manufatturiero e far leva sulle risorse disponibili offrendo un valore aggiunto sui mercati mondiali.